Aspettando di diventare cittadella dello sport, il quartiere di Villa San Martino si prepara ad un anno e mezzo di cantiere, perlomeno nel suo spicchio d'accesso compreso fra via Togliatti e via Paganini. Qui infatti hanno preso vigore i lavori che realizzeranno la cosiddetta cittadella del basket con Casa Vuel e il centro federale della pallacanestro che andranno a implementare il preesistente polo sportivo di piscina e centro pentatron dell'impianto Facchini. Data indicativa di fine lavori dicembre 2024 per un max intervento da 4 milioni e mezzo di fondi PNRR che porteranno una nuova struttura coperta polifunzionale per basket e altre attività motorie, tribune, uffici, sale e riunioni eppure un museo della pallacanestro. Il terreno preparatorio alla nuova edificazione non è stato però indolore dal punto di vista ambientale con residenti e associazioni ambientaliste come la Lupus Infabula che hanno stigmatizzato il taglio di una ventina di alberi. Il comune dal canto proprio risponde preparando un numero superiore di piantumazioni. Un cantiere che va ad aggiungersi a quello in corso da settimana all'affiancato campo da calcio sventrato per il radicale rifacimento del terreno con erba artificiale adeguati alla standard della Lega di Lettanti. Un'opera carico della Delfino Sport ditta già protagonista in questa estate del rifacimento del manto erboso dello stadio Benelli appena inaugurato. Per il campo da calcio l'investimento è di 740.000 euro finanziati da un mutuo acceso dal comune con il credito sportivo.